La Cisle di Lecce, in segno di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino, vittima dell'immotivata aggressione subita da parte della Russia, ha deciso di esporre sulla facciata della sede provinciale della Cisle di Lecce, sita in Viale della Libertà, la bandiera ucraina accanto alla bandiera arcobaleno della pace e quella della Cisle. Il blu e il giallo della bandiera ucraina, che ricordano i colori del cielo e del giallo dei campi di grano, campeggerà non solo sulla sede provinciale, ma anche sulla facciata delle sedi zonali salentine e del sindacato stesso. Con questo simbolo, ha affermato il segretario generale della Cisle di Lecce, Ada Chirizzi, in linea con quanto sostenuto dal segretario nazionale Luigi Sbarra, vogliamo ribadire che siamo senza alcuna ambiguità accanto ai lavoratori e agli studenti, le pensionate e i pensionati, le donne e gli uomini che in Ucraina lottano contro chi vorrebbe negare l'identità di un popolo, spezzarne l'unità e privarlo della libertà. La Cisle di Lecce si attiverà per sostenere la sottoscrizione attivata a livello centrale, finalizzata all'istituzione di un fondo di solidarietà che permetta ai lavoratori, pensionati, imprese e strutture di dare il proprio contributo per la realizzazione di programmi umanitari e di aiuti a profughi e famiglie coinvolte.